Il Picerno affronta al Viviani il sorrento di Vincenzo Maiuri con l'obiettivo di confermarsi l'anti-Juve Stabia dopo il passo falso dell'Avellino fermato in casa dalla Messina. Mister Longo che non guarda chi gli sta davanti, quella che il trainer Melandrino ha paragonato ad una corsa automobilistica, vorrà però sicuramente provare a realizzare il miglior giro della stagione. Riscaldiamo dunque i motori e andiamo in cronaca con il Picerno che dopo otto minuti passa in vantaggio con Murano che raccoglie di testa l'assist di Esposito mettendo a segno la sua diciassettesima rete stagionale. La risposta del sorrento arriva al tredicesimo da calcio piazzato con De Francesco che però non crea grossi problemi a Somma. Al ventesimo è ancora Murano dalla distanza di impegnare del Sorbo la parata bassa. Alla mezz'ora esatta il sorrento va vicinissimo alla rete del pareggio con Fusco che di testa dagli sviluppi di un calcio d'angolo colpisce in pieno il palo alla destra di Somma. Si chiude così un bel primo tempo ricco di occasioni ma solo una decisiva. La prima occasione invece della riripresa arriva dopo 16 minuti con Bagliè che di testa colpisce il palo, il secondo della gara, sulla deviazione providenziale di Biasiol. Al minuto 72 De Francesco da punizione calcia alto sulla traversa. Occasione sciupata all'ottantatresimo da Blondet che di testa trova Somma attento nel bloccare il pallone. La partita la chiude definitivamente Albertini al novantaquattresimo sfruttando al meglio il comodo assist di Sant'Arcangelo per il definitivo 2-0. Il Picerno conquista la tredicesima vittoria stagionale con il terzo successo di fila e conferma il secondo posto in classifica. Sorrento che ha creato tanto nella seconda frazione di gara ma che ha peccato di fortuna e incisività. Longo segna sul suo taccuino il miglior giro della stagione e continua la sua corsa alla Juve Stabia a bordo di una macchina che davvero non dà segni di frenata.